Buongiorno ragazzi, allora per raccontarci chi era Michelangelo Bonarroti da un punto di vista architettonico sono andata a scomodare niente po' di meno che Google Art. Andiamo a vedere che cosa sono andata a visualizzare. Sono andata a visualizzare Piazza del Campidoglio. Eccola qui, siamo a Roma e questo edificio è il Comune di Roma, la sede di rappresentanza del Comune di Roma. Perché ci interessa particolarmente vedere questo? Perché Michelangelo Bonarroti si è occupato di rifare l'assetto di questa piazza e l'edificio principale. Ma noi lo stiamo vedendo dall'altro, prof, ma è sicura che questa è una visione che a noi ci interessa? Assolutamente sì. Per i primi cenni dobbiamo subito renderci conto che lui ha fatto diventare un trapezio questa piazza. Non so se voi siete mai andati a teatro, ma pensateci, se avete mai visto una rappresentazione teatrale, il pubblico si troverebbe qui. E lui che cosa ha fatto? Ha chiuso le quinte dalla parte del pubblico per far concentrare la gente proprio sul palazzo che fa da fondo. Che questa è una scelta molto particolare, nel senso che ha fatto in modo che l'attenzione fosse attratta da questo. Vedete, l'accesso alla piazza è garantito da un'altissima scalinata, bisogna fare un bel po' di gradini prima di arrivare in questa piazza. È accessibile delle aperali, per carità, ma questo è il vero accesso della nostra piazza. Andiamoci a buttare là dentro, vediamo se ci fanno entrare. Con l'omino non ci andiamo. Ci fai vedere il 3D? Ok, ci fa vedere il 3D. Fermo qua. Allora, in qualche maniera, ragazzi, vedete, noi siamo con il palazzo del comune di Roma qui, con la gradinata qui e con questa situazione assolutamente, perfettamente formale. Questo è l'altare della patria, ok? Giusto per chi è andato di recente a Roma e si ricorda queste cose, dopo i tre anni, se siete ritornati a Roma, la collocazione è questa. Questa è un'arteria di quelle principali che si percorre normalmente quando si va a spasso per Roma. Allora, vediamo se ci fai riprendere questo giro. Quindi c'è una relazione tra due sue grandi opere architettoniche. Da qui si vede perfettamente il cupolone di San Pietro. Potere temporale, potere spirituale. In dialogo si fa solo questa strada, vedete? Quindi è proprio niente che separa i due poteri che ha rivisto e rimesso in ordine il nostro Michelangelo. Qui ha sistemato la piazza, l'ha resa una piazza scenografica, gli ha dato un forte impatto visivo andando a chiudere lo scorcio con i due palazzi, tre pezzi odali. E' il cupolone che ha fatto per completare la fabbrica di San Pietro. E' una relazione, a mio avviso, sostanziale, non trascurabile. La piazza del Campidoglio, come potete ben vedere, ha questo grande palazzone che è ritmicamente scandito. Ha questo inserto nella decorazione del palazzo policromo, fatto con marmi di diversi colori, nero e bianco. E ha poi questo scorcio su quello che per noi diventerà San Pietro. Questa strada che da lì ci guida, come abbiamo detto, sino alla città del Vaticano, sino a San Pietro, dove a noi andiamo a cercarci a questo punto. E' questa roba qui. Lui la costruisce ovviamente omaggiando chi? Ma Brunelleschi ovviamente, perché la struttura è molto simile e prende origine da Brunelleschi. C'è un alto timpano, sopra poi ci sono questo alternarsi di finestre che sono timpanate, sono un seguirsi continuo nel timpano. Poi abbiamo questi spicchi che vengono sottolineati dai costoloni, così come aveva fatto Brunelleschi. E sopra questa struttura troviamo una lanterna, la lanterna con loggiato, anche questa praticabile. Quindi evolve la struttura creata dal Brunelleschi, la rende più stabile, la costruisce totalmente in muratura e ne fa un omaggio a Brunelleschi anche se la realizza più grande. Quindi automaticamente diventa questo il riferimento in altezza per tantissimo tempo di quello che doveva essere costruito a Roma. Si poteva costruire sino alla cima della lanterna di Michelangelo. Quindi questo è il gesto simbolico di dare la maggior altezza della città comunque al potere spirituale. Che non è un gesto da poco in un periodo in cui si parla di punto di vista dell'uomo all'interno della cultura e della filosofia. E quindi la relazione tra potere temporale e potere spirituale, anche se il potere temporale è posto su una collina, il potere spirituale resta il più alto. E così chiudiamo le riflessioni sul nostro Michelangelo Buonarroti, architetto.